A selection from Italian prose writers with a double translation for the use of students of the Italian language on the Hamiltonian system. In cani et in uccelli s'è dilettato, le sue opere maggiori al presente lasciando stare. Il quale con un suo falcone, avendo un dì presso a Peretola una gru ammazzata, trovandola grassa e giovane, quella mandò ad un suo buon cuoco, il quale era chiamato Chichibio, et era viniziano. E sì, gli mandò dicendo che a cena l'arrostisse e governassela bene. Chichibio, il quale come un nuovo bergolo era, così pareva, acconcia la gru, la mise a fuoco e con sollicitudine a cuocerla cominciò. La quale, essendo già presso che cotta e grandissimo odor venendone, avvenne che una femminetta della contrada, la quale Brunetta era chiamata e di cui Chichibio era forte e innamorato, entrò nella cucina e sentendo l'odor della gru e veggendola, pregò caramente Chichibio che ne le desse una coscia. Chichibio le rispose cantando e disse Voi non l'avrì da me, donna Brunetta, voi non l'avrì da me. Di che donna Brunetta, essendo turbata, gli disse In fe di Dio, se tu non la mi dai, tu non avrai mai da me cosa che ti piaccia. E in breve le parole furono molte. Alla fine Chichibio, per non cruciare la sua donna, spiccata l'una delle cosce alla gru, gliele diede. Essendo poi davanti a Currado e ad alcun suo forestiero messa la gru senza coscia, e Currado, maravigliandosene, fece chiamare Chichibio e domandò lo che fosse divenuta l'altra coscia della gru. Al quale il vinizian bugiardo subitamente rispose Signor, le gru non hanno se non una coscia e tu una gamba. Currado allora turbato disse Come diavol non hanno che una coscia e tu una gamba. Non vidi io mai più gru che questa? Chichibio seguitò Egli è, messer, com'io vi dico, e quando vi piaccia, io il vi farò vedere ne vivi. Currado, per amor dei forestieri che seco aveva, non volle dietro alle parole andare, ma disse Poiché tu dì di farmelo veder ne vivi, cosa ch'io mai più non vidi ne udì dir che fosse, ed io il voglio veder domattina, e sarò contento. Ma io ti giuro, in sul corpo di Cristo, che se altramenti sarà, che io ti farò conciare in maniera che tu con tuo danno ti ricorderai, sempre che tu ci viverai, del nome mio. Finite adunque per quella sera le parole, la mattina seguente, come il giorno apparve, Currado, a cui non era per lo dormire l'ira cessata, tutto ancora gonfiato, si levò, e comandò che i cavalli gli fossero menati. E fatto montar Chichibio sopra un ronzino, verso una fiumana, alla riviera della quale sempre soleva in sul far del dì, vedrai delle gru, nelmeno dicendo, e tosto vedremo chi avrà iersera mentito, o tu, o io. Chichibio, veggendo che ancora durava l'ira di Currado, e che fargli convenia a prova della sua bugia, non sapendo come poterla si fare, cavalcava presso a Currado con la maggior paura del mondo, e volentieri, se potuto avesse, si sarebbe fuggito. Ma non potendo ora innanzi, e ora addietro e da lato si riguardava, e ciò che vedeva, credeva che gru fossero che stessero in due piedi. Ma già vicini al fiume pervenuti, gli venner prima che ad alcun vedute sopra la riva di quello, ben dodici gru, le quali tutte in un piede, dimoravano, siccome quando dormono soglion fare. Perché egli prestamente mostrateli a Currado, disse, Assai bene potete, messer, vedere che iersera vi dissi il vero, che le gru non hanno se non una coscia ed un piede, se voi riguardate a quelle che colà stanno. Currado, vedendole, disse, Aspettati, che io ti mostrerò quelle in anno due, e fattosi alquanto più a quelle vicino, gridò, Ho! Ho! Per lo qual grido le gru, tutte dopo alquanto passi, cominciarono a fuggire. La onde Currado, rivolto a Chichibio, disse, Che ti par, ghiottone? Parti che le n'abbian due? Chichibio, quasi sbigottito, non sappiendo egli stesso d'onde si venisse, rispose, Messer, sì, ma voi non gridaste, Ho! Ho! a quella di iersera, che se così gridato aveste, ella avrebbe così l'altra coscia e l'altro piede fuormandata, come hanno fatto queste. A Currado piacque tanto questa risposta, che tutta la sua ira si convertì in festa e riso, e disse, Chichibio, tu hai ragione, Ben lo doveva fare. Così adunque con la sua pronta e sollazievole risposta, Chichibio cessò la malaventura e pacificossi col suo Signore. E'altra cosa è la mia тому, car fa ricomba di dirlo, chichibio ucci, ti senno di essere, all' Ashè, anche, poi, le corone. Grazie a tutti.